Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono davvero lasciati? Tutta la verità Sonia Bruganelli annuncerà a Verissimo la rottura con suo marito? Parla lei Nel tardo pomeriggio di ieri il portale Dogostia.it ha lanciato una clamorosa bomba su Paolo Bonolis e sua moglie Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal sito web i due si sarebbero già lasciati e nel prossimo weekend annunceranno ufficialmente la rottura nel salotto televisivo di Silvia Toffanin Una notizia che ovviamente ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. Ma sarà vero? Punto La Bruganelli ha subito commentato la news su Twitter chiarendo il fatto che andrà a Verissimo. Ma con sua figlia? A Verissimo andrò con mia figlia Adele Paolo Bonoli si ironizza su queste illazioni. Siamo molto in difficoltà A stretto giro Sonia Bruganelli ed il conduttore di Avanti un altro hanno poi pubblicato un video su Instagram in cui hanno smentito senza se e senza ma tutte queste illazioni circolate online sul loro conto Di fatti il presentatore del game show quotidiano in onda su canale 5 ha ironizzato asserendo di essere un po' in difficoltà adesso visto che teme di poter mandare in malora il portale web d'agostia.it che ha riportato questa news Grazie a tutti Grazie a tutti Il marito di Sonia Bruganelli è però un vero e proprio fiume in piena e ha lanciato anche un ultimo affondo invitando tutti a farsi gli affari propri Ad oggi non c'è una conferma o una smentita. Non c'è niente. Sono indeciso. Il destino parlerà. Fatevi i casterisco i vostri Insomma stavolti. Con il suo modo simpatico. Ha comunque fatto emergere per la prima volta un certo fastidio su tutte queste illazioni circolate sulla sua vita privata. Arrivando addirittura a sferrare un bell'attacco nei confronti dei siti web Queste smentita non ha però convinto proprio tutti sui social Grazie a tutti